Sono aperte anche quest'anno con termine 30 ottobre le iscrizioni per i corsi serali del ITIS Quintinosella, tradizionalmente rivolte ad adulti lavoratori che a suo tempo non hanno proseguito o hanno interrotto gli studi superiori. Attualmente, afferma il preside Tiziano Badà, sono oltre 130 gli studenti che frequentano i nostri corsi serali di meccanica, meccatronica, informatica, chimica e biotecnologie sanitarie e sono persone che provengono dal mondo del lavoro e anche per questo molto motivate. Molto spesso, aggiunge Badà, il diploma di maturità viene loro richiesto proprio dall'azienda in cui lavorano perché costituisce un titolo determinante per la procreazione di carriera. E difatti, dai dati in nostro possesso, rileviamo come, dopo aver proseguito il diploma, il percorso lavorativo dei nostri diplomati evolva verso posizioni professionali migliori e permetta loro una mobilità lavorativa verso traguardi più ambiti. Non mancano poi casi, prosegue ancora il direttore, di allievi del serale, diplomati con il massimo dei voti di alcuni che si sono anche iscritti all'università. In effetti, quello rilasciato dal serale è, a pieno titolo, un diploma di maturità e si tratta di un percorso impegnativo, conclude il preside, a cominciare dal monte ora richiesto. Gli studenti sono impegnati a scuola tutti i giorni feriali dalle 18 alle 23, mentre una quota ulteriore di lezioni pari al 20% dell'orario si svolge in modalità di distanza.